Buongiorno. Buongiorno. E' la storia di Massimo. Gli giri intorno, ma Massimo oggi computer, tablet e pure batite colorate, la vedo… Ah! Lo dirai gli altri! Vai ragazzi! Tutto è… e azione! Una storia all'insegna del giallo. Agile rosso, blu e perdita. Perché Massimo produce penna verde e matite colorate. Quest'anno abbiamo aumentato la produzione. Due miliardi tra matite e penna verde. Siamo a due miliardi! Siamo, diglielo! Non sa dire… Perché questa è la storia di Massimo. Lui vorrebbe far crescere la sua… Rittallo! Un'altra subito, un'altra subito! La vedo grigia. Subito, vai! La storia che intendevo, l'ho detto male… Vai, vai, vai! Grande operazione! Rasti! Dai! Azione! Dicono che unendo il blu e il giallo si tenga il piede. Ma non è vero, guarda! Dov'è? Bellissima c***a questa! Vendiamola! La storia impossibile. Vabbè, racconta l'ora tu. Sei così bravo. Mi sono voglia male. No, così. Ah! Guarante! Sì!